Ciao a tutti ragazzi e buon lunedì, e non è un lunedì come tutti gli altri perché è lunedì che ci porterà alla Champions League è lunedì che ci porterà al ritorno degli ottavi di finale della sfida e dell'eliminazione diretta contro il Villareal a Torino e io sarò a Torino e quindi l'ansia sale ancora di più ma anche se fossi stato a casa sarei stato in un'ansia surreale e da oggi vi avevo promesso che avremmo iniziato a parlare ovviamente della Champions e avremmo iniziato a fare una full immersion della Champions ma non sarà così, per forza di cose in questo primo video di giornata dobbiamo ancora una volta concentrarci e spostare il focus sulla Serie A perché ieri sono successe cose carine per quanto riguarda la Juventus e ne parliamo però per capire anche se chiellini di vale effettivamente saranno convocabili per la Champions vi consiglio di scaricare OneFootball, l'app è lo sponsor del canale, trovate il link qui sotto in descrizione oppure con la fotocamera dello smartphone inquadrate questo QR code e vi aggiornerà su tutte le notizie inerenti alla vostra squadra del cuore selezionate la Juventus e poi è un continuo aggiornamento Cos'è successo ieri? Beh, la Roma ha pareggiato con l'Udinese 1-1 l'Atalanta ha pareggiato con il Genoa 0-0 l'Inter ha pareggiato con il Torino 1-1 tra l'altro quest'ultima partita l'avevo seguita nel primo tempo avevo visto addirittura il gol di Bremer, avevo visto addirittura l'episodio del rigore che non è stato poi fischiato al Torino tra l'altro mi fa ridere perché ero con la mia ragazza sul divano e anche lei che non segue il calcio però le regole basilari le sa mi ha detto ma quello è rigore? e gli ho detto sì adesso andranno a vederlo al bar e lo daranno sapete non parlo di arbitri però c'era questo siparietto simpatico volevo spendere queste due parole proprio perché mi ha fatto ridere che anche la mia ragazza che di calcio sa proprio le regole base era arrivata a fare questa valutazione poi l'Inter riesce a pareggiare all'ultimo secondo e si porta a quota 59 quindi cosa succede? che la Juventus va a recuperare due punti sull'Atalanta due punti sulla Roma e due punti sull'Inter ed è normale che ancora di più, ancora con più forza ancora in maniera maggiore tanti di questi la Juventus ora stiano pensando effettivamente allo Scudetto io sono ancora della mia idea no, non siamo una squadra Scudetto perché abbia recuperato punti soltanto su una delle tre che sono davanti e vi dico anche una cosa però per bilanciare il tutto io ieri mi ero scordato delle partite di Atalanta e Roma e mentre ero sul divano prima dell'Inter ho guardato e ho detto ah è vero che giocava anche il Napoli perché ieri ero impegnato, avevo fatto una roba e vado a vedere che cosa ha fatto il Napoli e poi vedo che l'Atalanta e la Roma hanno pareggiato il mio cervello in maniera inconscia aveva fatto il ragionamento di ignorare quelle dietro e di proiettarmi già su quelle davanti quindi io non credo nello Scudetto lo so, lo penso, lo dico però probabilmente dentro di me c'è una parte che mi fa pensare già a quelle davanti piuttosto che a quelle dietro poi il fatto che l'Atalanta abbia pareggiato è una cosa super positiva perché la Juventus in questo modo diventa ancora più padrone del suo destino in caso di volersi qualificare come minimo alla zona Champions perché l'obiettivo minimo è il quarto posto perché ci sei già o devi difendere io in questo momento, dico la verità ma sono fatto così, quando raggiungo un obiettivo vado subito su quello dopo che non è lo Scudetto per il momento è il terzo posto ora, la corsa al terzo posto su chi è? sul Milan? sul Napoli? sull'Inter? perché ora andando alla classifica siamo a tre punti dall'Inter abbiamo lo scontro diretto da giocare appena rientreremo dalla pausa nazionale e quindi siamo lì che pensiamo eh, se vinciamo andiamo pari ma non dimentichiamoci mai che l'Inter è una partita in meno quando ragionate sull'Inter che in questo momento ha quota 59 un piccolo esercizio un piccolo consiglio immaginatevela già a 62 come l'Atalanta immaginatevela già a 51 non a 48 e non l'Inter a 59 aggiungete questi tre punti perché verosimilmente andrà così partiamo dal presupposto che verosimilmente l'Inter vincerà col Bologna l'Atalanta vincerà col Torino e si porteranno a più tre poi qualora non dovesse essere così tanto hai guadagnato perché se noi partiamo già col presupposto che perdono o pareggiano aggiungere poi quei due punti perché sicuramente andrà così un po' da fastidio no? e noi dobbiamo per forza di cose fare questi ragionamenti perché quando sei dietro non c'è altro modo di recuperare punti se non sperare che le altre possano fermarsi in qualche modo io più che l'Inter in questo momento ho nel mirino il Napoli il Napoli perché? perché è la squadra più vicina a noi considerando i tre punti dell'Inter Napoli 60 Juventus 56 quindi la lotta al terzo posto secondo me in questo momento va fatta nei confronti del Napoli poi qua c'è da aprire una parentesi e cioè la Juventus appunto avrà uno e un solo scontro diretto con le tre squadre che sono sopra di lei ed è quello con l'Inter appunto del 3 di aprile allo Juventus Stadium un tifoso dell'Inter oggi non è tranquillo il tifoso dell'Inter oggi è preoccupatissimo anzi forse sta iniziando a perdere anche un po' di fiducia nella conduzione tecnica che nella prima parte di stagione tanta tantissima troppa roba perché l'Inter veramente aveva iniziato un percorso che l'aveva portata ad essere una macchina da gol incredibile uno schiacciassassi di risultati allucinante poi qualcosa si è rotto e questo va detto è evidente sotto gli occhi di tutti penso che abbia fatto tipo 6 punti nelle ultime 6 una roba del genere più l'eliminazione della Champions quindi sicuramente in questo momento i tifosi dell'Inter hanno paura hanno paura di venire a giocare allo Stadium avevano paura probabilmente di andare anche ieri sera a Torino con ragione perché comunque sappiamo com'è andata ha lasciato indietro altri due punti preziosi quindi venire a Torino a giocare contro la Juve in questo momento un tifoso dell'Inter un po' spaventato lo è e quindi la Juve può recuperare questi 6 punti all'Inter ma dall'altra parte non c'è scritto da nessuna parte che avremo assicurati questi tre punti con l'Inter perché è logico pensare a Juve in questo momento è in un momento positivo l'Inter in questo momento è in un momento negativo c'è lo scontro diretto vediamo e poi ve ne dico un'altra attenzione perché prima dell'Inter noi andiamo a giocare con la Salernitana giochiamo con la Salernitana che sulla carta è una partita scontatissima però un attimo anche andare a Venezia doveva essere una partita scontatissima e ve ne dico un'altra ricordate la settimana di Halloween quando la Juventus perde perde col Sassuola e con l'Elas Verona nel giro di 4 giorni quelle due sconfitte sono 6 punti ricordate le prime 4 giornate di campionato dove abbiamo 2 punti in 4 giornate quelle 4 giornate sono altri 10 punti più i 2 di Venezia perché questo discorso non oddio i rimpianti che ci sono ci saranno perché veramente bastava un niente in più è l'inizio per essere effettivamente dentro nel vivo della lotta scudetto e vi dirò di più probabilmente anche essere i favoriti perché Allegri è l'unico che la scudetto l'ha vinto nei 4 allenatori primi in classifica nei 5 volendo esagerare mettendoci anche l'Atalanta e la Juve è sempre la Juve in campo nazionale però per dirvi che veramente basta una settimana fatta male come può essere quella Sassuolo e la Sverona o come può essere quella Udinese Empoli come può essere la partita in cui sei poco lucido come col Venezia e tutti questi pensieri positivi una bolla di sapone e sei ancora più deluso perché avevi iniziato a crederci io in questo momento lo dico tranquillamente questo potrebbe sembrare assurdo perché io per tutto l'anno da inizio stagione ho ripetuto questo ritornello per me l'Inter è la squadra favorita è la squadra più forte è quella che ha il campionato in tasca lo scudetto sul petto è la squadra che si è mossa anche meglio sul mercato per sostituire indebolendosi ma si è mossa bene i risultati le stanno dando ragione in questo momento secondo me l'Inter è la squadra che e lo penso tuttora perché se vince col Bologna va a un punto dal Milan non è che stiamo parlando di quindi l'Inter non ha perso lo scudetto però dall'altra parte vi dico che essendoci lo scontro diretto da giocare a Torino ed essendoci anche la possibilità eventualmente di poterlo portare a casa io penso che la Juventus in questo momento possa eventualmente pensare di far una rincorsa anche all'Inter e se prima vi dicevo che il Napoli probabilmente è quello che mi trae nel mirino ma per un discorso di distanze in questo momento rimane fuori il Milan ed è questo che non mi fa credere nello scudetto perché vi posso anche dire in questo momento sto accettando l'idea che sia possibile addirittura arrivare secondi in questo campionato vi sto dicendo che è possibile addirittura arrivare secondi perché sul Napoli probabilmente la corsa la puoi fare perché qualcosa il Napoli può lasciare indietro e sull'Inter solo perché lo scontro diretto ma l'Inter la superi solo se vinci mi viene da dire adesso poi non è certa non è vera al 100% questa cosa però è molto probabile che se vai a vincere con l'Inter ecco che che cosa sta mancando all'Inter forse anche un po' di pressione e di sapere che tutti le mettono gli occhi addosso come favorita perché il campione in carica bla 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 ed è quello che si dice sempre vincere è un conto ma vincere nuovamente continuare a vincere è più complicato è più difficile è più complesso ed è così ed è così e l'Inter probabilmente in questo momento non è riuscito a gestire la pressione poi vi ne dico un'altra attenti a pensare già al 3 di aprile proprio per quello che dicevamo in inizio del video mercoledì si gioca col Villareal e la Juventus se andrà avanti sarà anche molto concentrata sulla Champions se uscirà bisognerà capire se ci sarà un contraccolpo psicologico per la Juve perché è importante sottolineare questa cosa uscire dalla Champions non è solo un oddio sono uscito dalla Champions il gruppo che magari era carico e che magari esce dalla Champions può avere una ricaduta ed è per questo che vi dico è impossibile oggi fare delle tabelle delle previsioni dire eh sì assolutamente bisogna viverle partita dopo partita pensando che in un qualsiasi momento possiamo scivolare pensando che non è detto che andremo avanti in Champions pensando che ci sono comunque tre squadre ed eventualmente due le puoi anche recuperare ma la terza mi sembra il Milan un po' più complicato che il Milan mi sembra che sia abbastanza proiettato in questo momento per cercare di strappare all'Inter questo campionato e che non voglia mollare un'opportunità così clamorosa poi vediamo se avrà la forza di portare avanti quindi vi dico con quel Juve-Inter che si gioca allo stadio l'idea addirittura di arrivare secondi se il Napoli molla qualcosa inizio a covarla ed è la dimostrazione che sto iniziando a guardare avanti piuttosto che indietro però attenzione non iniziamo a correre non iniziamo a fare dei voli dei ragionamenti perché noi adesso calendario della mano abbiamo Villareal e Salernitana e queste sono le due partite e sono importantissime una per un motivo una per un altro Villareal e Salernitana poi c'è il Mondiale e anche lì bisognerà capire se ci sarà un contracolpo psicologico positivo o negativo in tanti giocatori che poi andrebbe anche a ripercuotersi all'interno del discorso della sfida tra Juventus e Inter e quello stesso giorno non dimentichiamocelo mai il Napoli si è dall'Atalanta quindi calendario che sta iniziando a diventare abbastanza intrigante interessante ma non pensiamo allo scudetto adesso davvero vogliamo Bassi ragioniamo sulla Champions che abbiamo la fortuna di essere per il momento l'unica squadra italiana ad essere ancora in competizione e io voglio entrare nelle prime otto non ci sono casti e io voglio entrare